bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video questo è bianco flash 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 mori figlio di puttana non ci credo non ci credo non ci credo mori merda ok 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 queste cuffie fanno cagare ah si era staccato il jack giocati la partita te ne devi andare da qua brutal me ne stavo andando perché ci sono anche le guardie di questo dio santo vai dritto a nuoto che ti stanno sparando ritorno india vabbè come faccio brutal porco diaz ti devi allargare verso l'isola verso l'isola dove però va bene brutal però porco diaz figa mia nonna l'avrebbe capito ma stai girando intorno calmati let's go shubi shubi woohoo si così si così io povero come cazzo posso fare 33 bella madonna addirittura mi seguo su metto una buzzer qua a destra mia vai rientri subito servi istantaneamente centrato in safe è quasi allora se vuole tattico sta qua tattico e mini però andiamo 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 no ci sono ci sono ci sono eccomi ok non ho mazzo non può avere niente rocetto ce l'ha per forza e mi sono dovuti li ho dovuti usare è stato un problema tecnico gli addonati gli addonati no se vuole le dico cos'è successo cioè quando sono responato mi sono chiesto il come mai lei avesse messo una buzzer nella parte opposta poi mi sono reso conto che sono andato dentro la safe mentre devo andare dalla parte opposta no ti sto credendo male nella vita cioè lei è quasi morto sì perché ho detto ho cazzo dall'altra parte e quindi ci sto un problema tecnico c'è stato allora peschiazziamo non ho tempo adesso di fare le cose devo andare ma sali cosa cazzo sta non posso più salire sul taxi ma cosa sta succedendo ma cioè ero io che mi stavo venendo incontro e ho preso il taxi questa cosa mi sta un po' spaventando è vero possiamo scusa fai la cavia ho messo la mano male ho messo la mano male raga ho messo la mano male mi sembra un materiale sui mi sembra un materiale sui te li sto per droppare droppati qua sulla scala sacco sopra cazzo bouncer me li dia se li ha no non li ho no posso spiegare così muore 72 blu erca gli avevate tutti no tu ridi un cazzo ma io non posso morire perché ti do i mazzi ti conviene ammazzarli tutti e due e venire giù a prendermi no vabbè dai non ne do più no mi ha dato una mano in questo fight bravo e festo bravo e festo faccia un applauso con le chiappe e su di noi per favore ti quanti siamo tutte le volte che io ti do i materiali ti è piaciuto il mio po il mio cazzo ti è piaciuto proprio in faccia in uno scoppio ti ho sparato e nella lobby sei tornato andiamo no 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 si dai bravi sono morto Lasci perdere Non dovevo subire danno qua no 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 assolutamente no Siamo veramente due palle figa che roba che oggi è veramente liscio che si interessa ma non mi tocchi mi stia lontano E' veramente veramente liscio Ma non si avvicini stia lontano Ragazzi ora mi stiamo a toccare mi tocchi Si faccio toccare la pelata Vado via vado via La tocco molto piano sia per molto Vado via vado via Per favore aspetta che è lucido la pelata adf Andiamo Oh 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 che bedtime che e non una raragherà Non guardatela questo vi prego questo non guarda no 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 no, questo vi prego Di non guardarla dai sto dormendo naga sto dormendo Però, sono contento io santo santissimo santissimo 2021 bravo guarda che warzone non è questo gioco dimentichino di premere il cuoricino è importante raga iscrivetevi al canale i primi 3000 iscritti al canale riceveranno questa sera un buono sconto di 20% per la mamma del manu premetelo i primi 3000 i primi 3000 andiamo